Siamo con l'onorevole Stefania Marino, contestate questa proposta della regione siciliana di ridurre le quote di genere al 20%? Assolutamente sì, perché è un ritorno indietro anziché andare avanti, dove anche una legge nazionale prevede che ci sia almeno il 40% delle quote per la parità di genere e noi invece assistiamo, come sempre, a una discriminazione non solo politica ma anche sociale. Considerando anche che da breve si è votata anche l'autonomia differenziata, questo sud cadrà sempre più in basso, anche in riferimento alla parità di genere.